Il rapporto dell'Inghilterra con l'Europa in questo periodo si conferma molto difficile. Dopo la clamorosa Brexit politica è arrivata anche una sorprendente eliminazione agli europei di calcio. A fare fuori la nazionale dei tre leoni ci ha pensato negli ottavi la piccola Islanda che si è imposta per 2-1 in rimonta. Partita che si è decisa nei primi 20 minuti di gioco. A rigore di Runei per gli inglesi hanno risposto Sigurdsson e Sigtorsson. Grande gioia in casa Islanda che nei quarti affronta la Francia. Ancora grande gioia in casa Italia dopo l'impresa di ieri con la Spagna. Siamo stati straordinari, lo sapevo che questi ragazzi hanno doti fuori dal comune, ha detto il CT Antonio Conte al termine del match. Ora sotto con la Germania serve un'impresa titanica.